Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui, ritornati su Fortnite per andare a parlare della situazione dell'isola di Doom che qua stanno impazzendo tutti. Sì raga, adesso è molto più facile trovare l'isola di Doom e lo sarà sempre di più nel corso dei prossimi giorni. Oggi ne dobbiamo parlare perché sta per arrivare l'avvenimento più grosso di tutta la stagione, questa qui a tema Marvel. Ma prima di continuare col video, come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto attaccando le cotsuggette di Fortnite. Mi raccomando ragazzola, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che sul supporto creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice è scato e dovete reinserirlo. Grazie a quello di cuore a chi lo farà, è fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Lasciando il bel mi piace per supportare ovviamente il video, anche perché oggi comunque cercheremo l'isola di Doom, eh. Proveremo a fare un buon gameplay con l'armatura mitica. Ma prima di continuare vi volevo avvisare che è uscita una nuova mappa con la Crediva 2.0. In alto a sinistra, con il sistema di ricerca, potete andare poi qui a scrivere GGYT, vi usciranno fuori tutte le mie mappe. E qui, come vedete, all'ultimo posto c'è questa nuova Aura Propant. È una mappa appunto propant, per chi non sapesse di cosa sto parlando, sono sostanzialmente delle mappe in cui si gioca a nascondino, in cui però vi potete trasformare negli oggetti presenti appunto nella mappa. Ovviamente per chi cerca ci saranno degli aiuti per trovare ovviamente chi si sta nascondendo. Bisognamente poi sparare all'oggetto che si pensa che sia l'avversario che si sta nascondendo. Ci sono dei meme sound e tante altre cose molto divertenti, delle chicche anche per fare esperienze e quant'altro nella mappa. Quindi se vi volete divertire con i vostri amici e non, sta lì, bella, cattiva, con qui il codice isola. E poi ovviamente ci sono anche tutte le altre solite mappettine. Comunque ragazzi, detto questo, cerchiamo appunto proprio l'isola di Doom e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Allora raga, è successa una roba molto strana, nel senso io sto registrando sabato pomeriggio, per intenderci, ok? E è tutto buggato, cioè i server hanno dei problemi giganteschi. I server di Fortnite ovviamente, come al solito, come al solito. Solo che oggi più del solito, ok? E quindi niente, mi sono ritrovato sul bus, a caso, e quindi sono atterrato al volo e non avevo riavviato la registrazione. Perché poi ragazzi, una volta che ho fatto l'intro, stoppo la rec e la riprendo quando appunto sto startando il game, ok? E quindi niente, tutto questo per dirvi che appunto ci sono problemi ai server. Oh madonna mia, questo col pump mi stava per bombare brutalmente. Oddio no, buoni, 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 perché qua siamo messi abbastanza male, eh? Sta sopra questo, eh? Sta sopra, raga, mo, mo, mo parliamo bene, eh? Mo parliamo bene di tutto e vediamo un attimino che cosa dobbiamo fare. Allora, che poi tra l'altro ragazzi, la cosa che mi innervosisce di più è che con tutti questi problemi di server, io veramente sto perdendo un sacco di tempo e il problema è che devo trovare pure l'isola. Cioè, io tra l'intro e questa clip ragazzi ci sono 20 minuti. Ho perso 20 minuti per startare sta partita, per dirvi, per dirvi. Ok, quindi non è che dici, sai, ho perso un sacco di tempo a trovare l'isola. No, no, però ho perso 20 minuti per startare il game perché poi mi dava errore, poi ricominciava, poi mi dava errore. Anche questa partita pensavo stesse per crashare e invece poi fortunatamente, fortunatamente è partita. Quindi mo vediamo se siamo fortunati anche con l'isola perché comunque volevo fare un bel gameplay appunto sempre con l'armatura mitica del buon Doom. Tra l'altro ragazzi sto preparando un video spettacolare per domani, sempre inerente all'isola di Doom eccetera eccetera. Mi serviva fare due partite con l'isola di Doom. Dopo tre game la troviamo una volta perché la sto facendo con altre persone in dei server privati, vabbè, poi vedrete se riesco a farlo. Ma sta cesta dove sta? Sotto? Sta ancora più sotto? La lascio stare, vabbè, non la apriremo mai quella cesta, va bene. Dicevo, sto preparando questo video e niente, poi dopo è crashato tutto e non sono più riuscito a fare niente. Quindi ho buttato tipo un'ora e mezza di tempo, abbiamo anzi buttato un'ora e mezza di tempo, quindi niente. Vabbè, comunque, comunque, scusate se mi sono perso in chiacchiere ma lo sapete poi mi... Sono tornato a cercare quella cesta, vero? Sì, siamo tornati a cercare quella cesta. No ragazzi, è incredibile. No, 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 ormai sta diventando questione proprio di vita o di morte. Io devo trovare questa cesta, devo trovare. Veramente era qui? Cioè veramente era questa e non era un'altra magari? Boh, magari era un'altra, non lo so. Vabbè, comunque, da venerdì pomeriggio, come era stato già ampiamente detto perché è successo pure lo scorso fine settimana, solo che questa volta è successo in maniera un po' più in grande, tra virgolette. Perché se vi ricordate bene, ragazzi, scorsa settimana Epic ha aumentato la possibilità di spawnare dell'isola fino al 12%. Quindi praticamente è passata dal 5% al 12%, ok? Questo qua sotto mi sta provando a sparare col pump da sotto. Ma non ha capito che da lì non mi piglia, spero. Ok. Eh, regà, niente, come inizio a parare dell'isola succede qualcosa. Aspettate, questo lo chigliamo col pump. Dove è andato? Ok. Ok, perfetto. Dovrebbero essere finiti qui gli avversari. Dicevo, scorsa settimana è passato dal 5% al 12%, per tutto il fine settimana, diciamo da tardo venerdì pomeriggio fino, mi sembra, a domenica sera, poi precisamente non lo so quando l'hanno terminato, però più o meno il fine settimana. Anche questa volta, da venerdì tardo pomeriggio, la percentuale si è alzata, ma addirittura arrivando al 20%, ed è per quello che adesso sto perdendo un bel po' di tempo per provare a fare parecchi contenuti che vedrete appunto oggi, eh, e in caso domani se riusciamo a farlo. Ma anche se questo riesco a farlo, solo che ovviamente se state vedendo il video probabilmente ce l'ho fatta. Dico probabilmente perché non lo so. Però, qual è la cosa particolare di questo fine settimana? Che a quanto pare, a quanto ha annunciato Epic stessa, eh, cioè non stiamo parlando di un leak, di una teoria o di una roba campata lì per aria, ma è una roba appunto ufficiale. Da qui fino a martedì, giorno in cui ci sarà l'aggiornamento più grande di questa stagione a tema Marvel, e già ne ho parlato in un video l'altro giorno qui sul canale, questa percentuale aumenterà. Ora, nel momento in cui io sto registrando dovrebbe essere ancora al 20%, quindi non si dovrebbe essere alzata e non ci sono stati altri annunci. Però sicuramente nel momento in cui uscirà questo video, se fa come Epic ha annunciato, la percentuale dovrebbe alzarsi ulteriormente. Quindi dovrebbe essere ancora più probabile trovare l'isola. Quindi state attenti ragazzi nelle partite che farete oggi, ma anche domani a questo punto, perché questa percentuale si continuerà ad alzare. Ora, martedì, mega aggiornamento, come vi stavo dicendo. Cosa dovrebbe succedere? Innanzitutto dovrebbe arrivare Iron Man. Faccio un piccolo risunto per chi si è perso il video dell'altro giorno, ma fidatevi, recuperatevi il video dell'altro giorno, perché è stata una GG News molto interessante. Ho detto molte più cose di quelle che dirò chiaramente in questo video, perché avrò meno tempo per farlo. Quindi recuperatevelo, però dovrebbe arrivare Iron Man e quindi dovrebbe entrare nel vivo lo scontro. Sappiamo ragazzi che i nostri eroi hanno combattuto contro Misterio, hanno fallito nel sabotare Doombot, perché appunto se avete fatto le missioni storie sapete di cosa sto parlando. Tra l'altro ragazzi, martedì arriveranno le missioni storie con Iron Man, quindi lì la faccenda si farà ancora più seria. Non vedo l'ora ragazzi, non vedo veramente l'ora, ma chi ha visto anche il video delle missioni sa perfettamente di cosa sto parlando. Ragazzi, fidatevi di me, non vi perdete i video di questi giorni per nessuna ragione al mondo, soprattutto per quelli che arriveranno da martedì in poi. Quindi ragazzi, detto questo, state attenti all'isola, perché appunto sta aumentando la percentuale per trovarla, insomma. E quindi tutto ciò ovviamente rende più facile che voi nella vostra lobby abbiate Doom. Perché dico potrebbe rendere più facile il tutto? Perché comunque, io non so voi, ma ho visto alcune partite in cui nessuno riesce a prendersi Doom. Cioè nessuno riesce a prendersi l'armatura, tra virgolette. Cioè perché magari ci vanno tutti, succede un macello e nessuno riesce ad accaparrarsela, tra virgolette. E quindi, insomma, non è detto che in tutte le partite la gente riesca a prenderla. Poi chissà martedì che cosa succede, perché si sta dicendo anche appunto di farlo diventare al 100% e quindi di averlo in tutte le partite. Non so quanto sia positiva una cosa del genere, perché effettivamente... Oh, il bro si è nascosto qua dentro e mi sta sparando da dentro. Eh bro, però ti vedo, nel senso... Tra l'altro è un mida. L'haul era da solo. Dicevo, non so quanto sia positiva come roba, perché so che ovviamente molti non sono troppo contenti del fatto che magari arriva per, insomma, tutte le partite. Secondo me ci stava il fatto che fosse abbastanza rara, però come già ho detto più e più volte, secondo me dovrebbe rimanere fisso al 15-20%. Cioè che comunque è una buona percentuale, ma non è esagerata. Tom, magari nel periodo clou potrebbe arrivare al 25-30%, però così almeno chi vuole giocare tranquillamente e non vuole robe come quella lì, magari appunto sta un po' più sereno, ecco, diciamo così. Comunque il mio hype per martedì sta salendo sempre di più, eh. Per ora non è stato bilanciato nulla, nel senso che dell'isola non dovrebbe essere cambiato niente, se vi state domandando anche questo. Non lo so se poi verrà ritoccata, magari sì, verrà ritoccato qualcosina per quanto riguarda i poteri di Doom, però staremo a vedere. Io nel frattempo adesso cercherò l'isola, farò un po' di partite finché non la trovo, anche perché non credo mai nella vita la riusciremo a trovare già adesso, cioè figuratevi se ho tutta sta fortuna nel trovarla immediatamente. Però nel frattempo ovviamente tryhardiamo e entriamo qui nel bunker, visto che si sta aprendo, e modificiamo un po' le armi, va. Ok ragazzi, lootiamo un pochino, perché no, perché no, attenzione, uh, ho visto una cosa, eh vabbè. Cioè certo, trovo tutto in questa partita, che tanto come minimo adesso non spawna l'isola e devo droppare tutto, o comunque anche se spawna l'isola, ragazzi, non ci faccio niente, perché poi se prendo l'armatura di Doom, ovviamente capite bene che è stato tutto inutile, sostanzialmente. Vabbè, qui si lascia il laser, no, 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 in realtà no, mettiamo l'impugnatura verticale, va. Certo, quindi io sono così fortunato con il loot, semplicemente perché tanto non ci farò nulla per l'endgame. Va bene, grazie Fortnite. Comunque si sta per chiudere la tempesta che, uh, ci sono tutti e tre medaglioni, quindi c'è gente molto cattiva in questa lobby. Dicevo, si sta per chiudere la tempesta che decreterà poi lo spawn dell'isola, quindi vediamo un po' che succede. Io cerco di andare magari il più centrale possibile, eh, così poi siamo teoricamente il più vicini possibile all'isola. C'è anche un botto di gente con la corona, ragazzi. Molto pericolosa questa situazione. Ok, regà. Uh, eccola subito! Non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere, ragazzi. La prima gioia nella mia vita per quanto riguarda Fortnite. Cioè, incredibile. Eh, però adesso è tosta. Eh, già sta arrivando un medaglione. Già sta arrivando il medaglione questo qui da sud-ovest. Oh mio Dio. Oh mio Dio, stanno già arrivando. Eh, devo stare attento, regà, eh. Devo stare attento. Mamma mia, là... No! Eh, c'è già gente. Vi dico solo questo. C'è... C'è già gente e mi stanno anche sparando, eh. Anche a lui stanno già sparando. Va bene. Ok. Carico le armi. Andiamo. Possiamo andare. Eh, speriamo bene, ragazzi. Speriamo bene. Dunque, vedete? Cioè, nel senso, si sente che hanno alzato la percentuale. Eh... Allora, io mi gioco un po' di Bunkadili. Ok. L'ho presi apposta. E vediamo un pochettino se... Se riusciamo effettivamente a conquistarla. Potrebbero anche velocizzare qui il calderone, eh. Vabbè, che io da solo così mi complico sempre la vita. Però, per dire. Eh, niente. Vediamo un pochettino se ce la facciamo. Vediamo un po' se ce la facciamo. Diciamo che sono stato ripagato con la sfortuna dei server che stanno avendo problemi. Calcolate, raga, che sono più di due ore che sto cercando di registrare il video che dovreste vedere domani. E c'ho solo una clip di cinque minuti per farvi capire in due ore. E appunto poi con i problemi di server non stavo neanche riuscendo a registrare questo. Comunque, i medaglioni sono arrivati tutti ma probabilmente stanno fightando tra loro. Io metto un altro Bunkadili qui perché adesso possiamo prendere appunto il buon Doom. No, 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 sbrigati, 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 perché stanno arrivando, stanno arrivando. Let's go! E lo abbiamo preso, signori. Ed eccoci qui, il Dottor Doom. Bon Doom, signori. In tutto il suo splendore. Non è sicuramente la partita con più kill in assoluto, perché ne abbiamo solo sette in realtà e siamo già in ventuno. Però, 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 eh raga, il problema è che non posso aprire il deltaplano. Io vorrei, eh vabbè, volevo mettermi sopra il, sopra il ponte. Allora, vediamo un po'. Eh raga, allora, facciamo fuori un po' di gente qua. Mamma mia, raga. Mamma mia, ragazzi. Che roba. Difficio comunque. Non posso stare con sto cavolo di raggio, eh. Ok. Mi sta annittando dall'isola? Sì, mi sta annittando dall'isola. Allora, vediamo un po'. Sì, dall'isola stanno cercando di prendermi. Oh, ma... Attenzione. Ah, ok, sei un po' buggato. Ma questo mi sembra... Oh, beh. Con calma, con calma. Eh, quelli là sopra che ha il problema. Quelli stanno sopra l'isola. Tanto fortunatamente... Fortunatamente non... È lì la safe. Aspettate, ma se io presto a fare una cosa? Aspettiamo. Ti piglio? Eh, no. Ma non so, mi sa che non ci sta arrivando. Mi sa che non ci arriva lì il raggio. Va bene, io me ne vado allora. Me ne vado perché tanto non mi conviene stare qui. Quelli stanno lì sull'isola e potrebbero killarmi da un momento all'altro. Quindi sinceramente li lascio stare. Eh, quelli sono tutti... Quelli che hanno tutti i medaglioni praticamente. Allora, facciamo un po' una cosa del genere. Dove sono? Qua dietro? Sì, sono qua dietro, raga. Non c'ho ancora le gambe. Ora sì. Oddio, non c'ho ancora l'abilità delle gambe. Madonna. No, non c'ho ancora... Madonna. Il raggio si carica molto lentamente. E meno male, oserei dire. Quello pensa a killare solo quello per terra. Ma non lo sto hittando? Ogni tanto, ragazzi, il colpo questo qui classico ti dà la sensazione che hitti, ma invece non hitta. Devo dire, non bene. Oh mio Dio, qua... Mamma mia, qua sono entrati tutti, eh. Qua sono entrati tutti e si sentono. Qua sono entrati tutti e si sentono. Devo stare attento a quelli lì con i medaglioni che sono andati a lutare lì dove ho ucciso. Ok, va bene, va bene. Chiaro, chiaro. In realtà, se riesco a puntarli mentre sono sopra il ponte, non è male. Così questa volta ce l'ho io l'alte... Eccoli lì. Eccoli lì. Eccoli lì, raga. Eccoli lì. Ok. Cioè, raga, ma vi rendete conto di che stiamo parlando? Cioè, raga, ma di che stiamo parlando? Cioè... Raga, questi erano bravini, eh. Cioè, sì, questi stanno laserando da lontano, ma... Non puoi nulla, non puoi nulla, non puoi nulla, raga. Cioè, non puoi veramente niente. Non puoi veramente niente. Devastante. Oh! Beh, no, non ce l'ho ancora carico il raggio. Non ce l'ho ancora... Eh, vabbè, questo, raga, è proprio disperato. Questo, ragazzi, è proprio totalmente disperato. Perfetto. Va bene. Vediamo un pochettino. Andiamo verso la safe, ragazzi. Siamo rimasti in set, quindi ci sono soltanto altri sei player. E poi ce la portiamo a casa, praticamente. Quindi, raga, detto questo, sì, adesso è tutto molto più facile da trovare. Torno a ripetere. Quindi, state attenti. State attenti. Oh, ma quello perché non lo sto hitzando? Ah, ora lo sto hitzando. Ma quanto dura il raggio, raga? Cioè, finché ce l'ho cliccato, stava continuando. Incredibile. Mamma mia. Ho visto un altro che stava scappando per di qua. Allora, recuperiamo un po' di vita, raga, che l'avevamo perso un pochino. Oh, comunque tutti messi bene con il loot, eh. Questo che c'ha? Questo, raga, c'ha l'altro potere. C'ha l'altro potere, raga. Doom contro Doom. Bro, bro, mi sa che il mio è un po' più forte. Eh, il mio è un po' più forte, bro. Il mio è un po' più forte. Eh, c'è poco da fare. Sì, c'ha il medaglione e quanti arcani di Doom, quelli classici del boss. Ok, ed eccoci qua con gli ultimi, praticamente. Oh, ma ancora non si è ricaricato il raggio? Ok. Madre mia, ragazzi. Madre mia, ragazzi. Ok. Mamma mia, raga. Ma il raggio è una cosa incredibile, raga. Cioè, il raggio è veramente una roba incredibile. Ce li usciti tutti e due, ragazzi. Mamma mia, signori. Che roba, che roba. Tanta roba. Ragazzi, che dire. Doveva arrivare il 20% di probabilità per trovarla al primo colpo. Ripeto, teoricamente, da quanto ha detto Epic, ogni giorno questa percentuale dovrebbe aumentare. Quindi, oggi che state vedendo il video, dovrebbe essere ancora maggiore. Quindi, da venerdì tardo pomeriggio fino a sabato, quindi ieri tardo pomeriggio, è stato al 20%. Teoricamente, dovrebbe essere un po' aumentata. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, anche del cosa aspettarci un attimino di questa situazione che si sta venendo a creare con l'isola e tutto. Vi ricordo, ovviamente, anche il codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccando le cose oggetti di Fortnite. Fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale, raga, per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Ma per forza, ragazzi. Per forza. E lasciate un bel mi piace. Vi ricordo sempre, mi raccomando, fondamentale. Per me è tutto. Ci ritroviamo domani, se riesco a farlo, con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzuali.